cosa hanno loro che voi non avete la risposta vi sorprenderà c'è un cambiamento che sta investendo il mondo questo cambiamento non ha precedenti nella storia del mondo avrete visto giornali o trasmesso telegiornali che proclamavano titoli come questi nel bel mezzo di una recessione questa azienda ha registrato profitti record vi suona familiare certo che sì ma cosa sta succedendo davvero perché molti lottano per arrivare a fine mese mentre altri fanno la bella vita che cosa hanno quelle persone di successo che voi non avete la risposta è niente non hanno nulla che voi non abbiate semplicemente sanno e capiscono qualcosa che voi non sapete un giovane andò da un guru e chiese perché non ho successo e non sono felice perché non ho quello che hanno gli altri il guru rispose come può mancarti qualcosa se possiedi il più grande tesoro dell'universo come faccio a possedere il più grande tesoro dell'universo chiese il giovane sconcertato il luogo da cui proviene questa domanda è il più grande tesoro dell'universo rispose il guru punto allora da dove viene la domanda e qual è il tesoro più grande dell'universo è la vostra mente il vostro cervello i vostri pensieri punto è il voi che è in voi il cervello produce tutto ciò che sperimentiamo tutti i nostri dolori e le nostre preoccupazioni tutti i nostri stati di beatitudine e le nostre estasi tutte le nostre visioni evolutive superiori e le esperienze di picco transtemporali eccetera